Un'idea che parte dalla leva del buono regalo e che usa come cassa di risonanza i social per incentivare i nuoresi a fare gli acquisti di Natale sul territorio. Si intitola Natale Insieme, l'iniziativa solidale promossa dal gruppo Facebook Welcome to Nuoro, bene benioso a Nugoro, a seguito di un'idea degli amministratori Luca Calvisi e Nadir Seddone. L'obiettivo della campagna, il cui slogan recita, regala un sorriso e incentiva al mercato locale, è dare concretezza alle raccomandazioni e agli inviti, che soprattutto nel periodo natalizio giungono da molte organizzazioni, a comprare locale, prediligendo cioè il negozio sotto casa alle grandi piattaforme online. Per far arrivare il messaggio, gli amministratori della pagina Facebook Welcome to Nuoro, bene benioso a Nugoro, hanno proposto ai negozianti nuoresi di aderire, versando solamente una cifra simbolica per coprire i costi di stampa, a un circuito all'interno del quale verrà offerta ai propri clienti la possibilità di acquistare presso di loro un buono regalo, identico per tutti, nella grafica e nella busta. Il buono può essere acquistato come vero e proprio dono natalizio, ma anche portato a corredo di un regalo principale e per alcune attività, ad esempio per quelle di ristorazione, può essere acquistato e lasciato in sospeso. Un'idea per dare un piccolo, ma importante incentivo alle attività locali, che complice il Tam Tam su Facebook, ha ottenuto presso i negozianti nuoresi un successo notevole. Al momento sono 76 le attività che hanno aderito all'iniziativa. Ufficialmente le richieste di partecipazione avrebbero dovuto pervenire entro 7 dicembre, ma vista la risposta positiva dei negozianti nuoresi e le richieste di nuove adesioni, ancora per qualche giorno sarà possibile prendervi parte. Intanto i consumatori interessati a usufruire del buono regalo possono trovare l'elenco completo delle attività aderenti sulla pagina Facebook Welcome to Nuoro Benebenioso a Nugoro.